Palermo città pulita, un titolo emblematico in questo convegno voluto dai 5 stelle all'interno dell'orto botanico. Partire dal riciclaggio dei rifiuti per rendere più pulita la città, a quanto pare quello che è sottolineato è che a Palermo si ricicla quasi nulla. Palermo pulita è sicuramente un auspicio, tutti noi non solo cittadini ma anche amministratori come obiettivo principale è quello di assicurare la massima vivibilità in una condizione ovviamente di ambiente decoroso oltre che dal punto di vista estetico e anche dal punto di vista igienico sanitario. Per cui chiaramente c'è uno sforzo, c'è un'attenzione, ecco si sono stati dei momenti in cui l'attività possibilmente dell'amministrazione, dell'azienda a ciò delegata, la RAP che soprattutto si interessa dei rifiuti, ha lasciato ovviamente molte cose non sufficientemente curate come servizio. Però mi sembra che negli ultimi mesi si stia registrando una condizione per cui possiamo sperare che nel breve tempo si possa andare a regime tornando a una condizione di normalità assoluta. Proprio la RAP in questi ultimi mesi ha finito di mettere a punto lo stabilimento lì vicino a Belolampo che dovrà trattare questi rifiuti e valorizzarli dal punto di vista proprio energetico e anche come materia organica necessaria per poter supplire a quello che tradizionalmente avveniva nelle nostre campagne, cioè quello di assicurare il riciclo della materia, la fertilizzazione dei suoli che non può essere più un'azione che può essere delegata soltanto all'industria chimica. Abbiamo l'industria organica che potrebbe in qualche modo concorrere a dare maggiore fertilità alla nostra regione. Cosa bisogna fare per far tornare questa città pulita? C'è un impegno dell'amministrazione comunale a spingere la raccolta differenziata perché è quella la chiave di lettura per abbattere una situazione che chiaramente è diventata endemica. Palermo ha molte potenzialità, bisogna sconfessare l'idea secondo la quale le grandi città non possono raggiungere livelli elevati di raccolta differenziata. Ci sono esempi in tutta Italia e in Europa in cui si è fatto e Palermo si deve allineare a questo quadro. Il centro in parte è già a regime con la raccolta differenziata però forse le periferie ancora sono da mettere a fuoco. Sì, bisogna completare tutti i livelli urbani della raccolta differenziata ma parallelamente la regione si deve impegnare a costruire le piattaforme per il recupero dei materiali riciclabili. E' questo un dato che comunque va segnalato perché in questo momento noi viviamo soltanto di discariche e la regione fondamentalmente non dà segnali positivi in questo senso. La regione Sicilia, a proposito, tutta la Sicilia rispetto alla città di Palermo, come è da collocare? Noi siamo l'ultima regione d'Italia a livelli di raccolta differenziata. Non dimentichiamoci che al 2015 noi dovevamo raggiungere il 65% di raccolta differenziata e siamo poco sopra il 10%. Questo vi dà il dato complessivo all'interno del quale si muove la regione siciliana. Questo convegno di oggi, dal titolo Palermo Pulita, cosa vuole rilanciare e cosa vuole sottolineare? Innanzitutto è un incontro culturale perché il tema dell'ambiente passa necessariamente da una coscienza e da uno sviluppo culturale della società perché è chiaro che senza collaborazione cittadina un'amministrazione non può fare passi in avanti. E quindi volevamo raccogliere i menti dell'università, infatti oggi sono presenti alcuni docenti della facoltà di giusprudenza, di ingegneria e di sociologia dell'ambiente, alcuni esponenti noi, esponenti politici, e raccogliere una serie di testimonianze per creare una cultura ambientale che probabilmente in questo momento manca a Palermo. Professore Aurelio Angelini, il suo intervento sarà un significativo, errori di sistema nella gestione dei rifiuti. Ce lo articoli? In realtà in Sicilia il nuovo sistema, che poi non è nuovo perché è vecchio, è stato stabilito da una legge del 1992, il decreto Ronchi, in realtà non è stato mai applicato. Tra commissariamenti e scelte tecniche sbagliate, la Sicilia rimane ferma al palo. Nel corso di questi 18 anni, da quando bisognava passare da un sistema di raccolta basato sul solo smaltimento in discarica, ad oggi i dati ci dicono in maniera inconfutabile che questo è quello che si continua a fare. Noi smaltiamo in discarica quasi la totalità dei rifiuti prodotti, mentre il modello organizzativo europeo nazionale prevede che in discarica possa andare solo la parte residuale della raccolta differenziata. Discariche che poi tra l'altro rischiano di riempirsi e far succedere in città gravi problemi? Io le do un dato, in Friuli Venezia Giulia in discarica va il 5% dei rifiuti, in Lombardia il 7%, da noi il 90%. Quindi è chiaro che con un ritmo di utilizzo della discarica in volumi di questo genere, le discariche vanno ad usurirsi rapidamente. Non a caso nella città di Palermo si sta già lavorando all'ipotesi di una settima vasca e quindi all'aumento ulteriore di un carico ambientale sulla città di Palermo. Quindi siamo completamente al di fuori di un sistema che dovrebbe invece guardare più al modello del Friuli, del Veneto, della Lombardia. Io direi anche della Campania, vi ricordate il recente, le emergenze campane. Bene, da quando si è smesso con le emergenze, da quando si è finito con provvedimenti sbagliati e si è iniziato seriamente a gestire il sistema utilizzando quelle che erano le migliori pratiche attivate nel nostro paese e in Europa, la Campania oggi fa quasi il 50% di raccolta differenziata. Ma ci sono altri esempi virtuosi in Italia, basti pensare alla Sardegna che fino a 4 anni fa era agli stessi livelli della Sicilia ed oggi è ben oltre il 50% della raccolta differenziata. Quindi si tratta di smetterla con scelte straordinarie, si tratta di smetterla con scelte sbagliate. Bisogna ricominciare da capo, azzerare, come si fa per questo parlo di errore di sistema. Quando nel computer compare questa scritta resettiamo. Ecco, il sistema in Sicilia va resettato sotto il profilo normativo, organizzativo e di sistema. Perché altrimenti continueremo a accumulare debiti, continueremo ad accumulare immondizia, continueremo a far ruotare un sistema che non è in grado neanche di garantire la decenza dell'igiene stradale. Tra l'altro riciclare i rifiuti può essere un impulso economico anche per l'economia della regione. Ma lei consideri che in Sicilia nel sistema rifiuti ruota una spesa intorno a un miliardo. Di questo miliardo circa il 30%, quindi più di 300 milioni, finisce solamente per gestire il costo delle discariche. Quindi noi per gettare i rifiuti che rappresentano una risorsa e che potrebbe essere evitato attraverso il recupero della materia prima, che ci permetterebbe addirittura cedendolo al Consorzio Conai di avere un'entrata, di realizzare un doppio comportamento virtuoso. Da una parte non avere il costo della discarica e dall'altra avere un pagamento a fronte della cessione del materiale raccolto in maniera differenziata. Tutto questo può essere investito per generare attività economiche in tutta la filiera del riciclo, quindi creando attività lavorativa ad alta intensità, perché si tratta da una parte di riorganizzare il sistema di raccolta, dall'altra di permettere a le imprese di rigenerare le materie prime e rimetterle sul mercato per i bisogni della nostra regione. Quindi con una buona performance in termini di investimenti, di imprese e di lavoro.